Benvenuti nel server della Gleba, quello rosso, vi ricordo subito di seguire il canale, di iscrivervi, mettere like, commentare e venirmi a seguire anche sul server della Gleba, Viola, Twitch, tutti i giorni live alle 2 tranne quando non è alle 2 e oggi siamo qua riuniti per parlare della top 10 safecraft, diciamo, secondo me per Ixalan le caverne perdute vi ricordo che io parlo dei formati di arena, quindi questa top 10 è strettamente legata a standard, historic, alchemy ed explorer o pioneer, ovviamente i limited sono tutti forti però questa volta io non posso limitarmi ad una semplice top 10 perché devo fare 2 menzioni d'onore generiche, diciamo, vi spiego meglio Prima menzione d'onore sono tutte le terre doppie animabili, queste non le metto nella top 10 perché sono talmente scontate che sarebbero il primo posto perché non ha senso, non ha senso inserirle in una top 10 di carte specifiche e sono tante, quindi tutte le terre doppie Restless ovviamente sono una menzione d'onore specifica a parte, ovvio, vancraftate, sono fortissime, vanno in tutti i mazzi di quei colori come lo sono state le loro predecessi un'altra menzione d'onore per chi non posso fare una top 10 interamente di dinosauri è i dinosauri, cioè il mazzo dinosauri sarà un mazzo buono in meta sia in best of 1 che in best of 3, ha ottime risposte anche di side, ha dei body fuori di testa, è un midrange che mena gli aggro è un midrange che dà fastidio ai controlli in quanto late game, value e tutto il resto ci sono delle versioni combo con fight rigging che sono piuttosto ridicole in best of 3 ma anche quelle faranno molto bene in best of 1 invece cioè la versione con fight rigging sarà un combo che chiuderà sempre in best of 1 e in best of 3 invece non esiste non ha possibilità di esistere perché qualsiasi rimuva l'incantesimo su fight rigging è perso ma in generale il comparto dinosauri che più o meno è la paleontologa, il raptor, il pugnasio e i quattro trumpet carnosaur che secondo me è anche il, cioè loro due raptor e carnosaur sono carte incredibili già da sole senza dover avere i dinosauri carnosaur sarà top di curva di tanti mazzi midrange e il raptor sarà una meccanica di ramp e verrà usata anche in altri formati specialmente il monogreen anche in pioneer secondo me questo lo può vedere molto 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 bene e non potevo mettere tutti i dinosauri in top 10 quindi tolti i dinosauri che sì sono forti, sì abbiateli tutti ora andiamo effettivamente a vedere la top 10 delle carte che rimangono decima posizione Tuzan Moon Smighty chi se l'è trovata contro al playlist sa di cosa sto parlando oltretutto anche nell'early access ha fatto faville è quattro mana artefatto leggendario quando entra in campo di battaglia crea un ognomo soldato artefatto che a forze costituzioni pare al numero di artefatti e o creature che controlli all'inizio della pre command main phase se puoi tappare 5 artefatti se lo fai diventa una terra che continua a cagare quell'ognomo ogni volta che usi il mana per attivare per giocare qualcosa è un ottimo top di curva per aggro è un'ottima meccanica di valore infinito per midrange è una carta ottima in tanti mazzi puoi fare monocreature per monowhite aggro puoi fare artefatti aggro, artefatti midrange midrange col bianco in generale di solido minimo è 4 mana 4-4 minimo andò entra che conta anche se stesso può tappare se stesso è veramente tanto tanto buona pericoloso il fatto è comunque artefatto quindi si spacca bene meno male nel senso però al minimo fa 2 per 1 perché una volta entrata fa l'ognomo quindi anche se te la boseigiano vi ricordo a tutti la miglior carta del set è boseigio è una piccola cosa che dovevo dire comunque nonostante la facilità con cui si può rimuovere è una grande carta perché fa veramente tanto e bene con veramente poco poco impegno numero 9 probabilmente qualcuno dirà anche di più ma io sono contento al 9 cavern of souls ovviamente ristampa di gristo e cavern farà tanto tanto sia in standard che in historic e in pioneer comunque ovviamente non la metto in cima perché anche questa era troppo scontata quindi ovvio 4 per craft immediato perché se non le sbustate dovete averne 4 tutti i mazzi tribali le vorranno non solo quelli anche i mazzi che hanno una creatura specifica forte che deve essere incanterabile potrebbero usarli potrebbe essere un 1 per che dice angelo ottimo in 5 color domain perché in 5 color domain hai 3 atrax e 4 archangelo vrat che sono tutti angeli quindi se te dici caverna angelo te hai pezzi incanterabili da cosa? dal disdainful stroke che sai dal tuo mirror avversario quindi tanto tanto volte in vari archetipi in vari archetipi non solo tribali non solo tribali Tishiana Tidebinder lo stifle con le gambe 3 mana 3 2 flash stifle su un'abilità attivata o innescata e il permanente che aveva quell'abilità innescata o attivata perde tutte le abilità finché Tishiana Tidebinder rimane sul campo di battaglia quindi è uno stifle che rimane in campo e sta fermo sta salendo anche di prezzo è un'ottima carta in vari formati secondo me darà il meglio di sé contro svariati combo in historic comunque è un craft sicuro anche perché quando non la usi anche semplicemente contro aggro 3 mana 3 2 flash schifo non può fare nella peggiore ipotesi è blocco il removal quindi non può essere brutta se è vero e io mi tocco tutto il toccabile che non bannano le fetch da Tarkir a dicembre questa quando fecciano è Stone Rain quindi vediamo vediamo speriamo non bannino le fetch carta comunque sicuramente da top 10 e entra in tanti 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 mazzi a seguire subito Sentinel of the Nameless City una delle mie carte preferite del set e non c'è un motivo è troppo perché è pulita è bella 3 mana 3 4 vigilance quando entra e quando attacca fa un map token semplice liscia è uno dei migliori drop a 3 del verde in questo momento se non stai giocando a dinosauri ottima carta da midrange ottima carta se hai bisogno di tokens ottima carta se hai bisogno di artefatti ottima carta se hai bisogno di un mazzo se sei in un mazzo che ha bisogno di filtrarsi le terre dalla cima perché se le pesca perde bellissima in un Janda midrange bellissima in un Golgari midrange si può vedere in un Merfolk non lo so se la sinergia Merfolk ha abbastanza per giustificare un tribale nonostante la Cavern of Souls ma questo è un drop a 3 di gristo che averne almeno 2 o 3 in connezione non può rimanere inusato diciamo dove lo metti sta ed è praticamente sempre bello oggi Raxonil il dio rosso che come sapete è già considerato il migliore da tanti per il Constructed 4-1-4-8 travolgere e se una fonte rossa infligge danni da non combattimento che sarebbe meno della forza di questo raggiunge la forza quindi si parte da 4 se lo buffi anche di più quindi ti fai Epicuro 4 danni Bolt in faccia 4 danni Spikefeel Hazard 4 danni attivazione di Anvil 4 danni quindi questa carta porta a 4 ogni ogni danno da non combattimento fatto con lei in campo se more diventa una terra che se fai 4 danni con 3 mana poi la flippi quindi questo potrebbe far entrare anche potrebbe far tornare invece una vregata perché flippa Auger però di base non abbiamo quasi bisogno della terra questo è già forte di suo me l'hanno giocato contro in early access Anvil mi ha fatto 16 danni in un turno con 3 cazzate quindi forte 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 non credo sia un 4x ma 2 tranquilli forse anche 3 Malcolm l'Uri Scoundrel altra carta troppo elegante troppo semplice per per essere non giocate in quasi tutti i mazzi col blu 2 mana 2 1 flash volante quando infine dà un combattimento a un giocatore ci mette un segnino chorus pesca e scarta una carta se ci sono 4 più segnalini su Malcolm la carta scartata la casti gratis senza pagarne il costo di mana perché questa carta è più forte livello che sembra perché intanto va risolta sempre quindi a 2 mana 2 1 deve morire se no vince la partita da solo perché fa troppo valore in più è molto più semplice di quello che sembra arrivare a 4 punti chorus perché perché il blu in realtà ha svariati removal e peschini che proliferano ma non aveva un payoff abbastanza forte Dimir contro il barra midrange che gioca Malcolm e gioca Vraska e gioca 2 mana pesco 1 guardo 3 pesco 1 proliferate può arrivare a cittare in campo roba veramente 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 tanto grossa o pericolosa tipo un di Taxias sto parlando di carte anche post rotazione che ora magari non stanno vedendo gioco perché c'è ancora quella merda di Kamigawa e quella roba overpower tipo dominare united però una volta rotato ci sono tante cose che non hanno visto gioco che sono molto forti e magari top di curva per Dimir che appunto se prolifere abbastanza riesce a cittare comunque quando si parla di blu e si parla di flash sappiamo che non si sbaglia questo è un mio take questo è un mio take un mio rischio una mia scommessa diciamo è il mio cavallo pazzo dell'espansione io questa carta si vedrà e sarà molto forte decide anche volendo però fa troppo per troppo poco 2 mana veicolo con crew 1 3 4 che quando attacca esplora sulla creatura che ha cruato non c'è niente in standard che attacca a turno 2 attraverso un 3 4 niente solo il dinosauro 3 2 travolgere che si gonfia se giochi un altro dinosauro quindi se te fai turno 1 ma in qualsiasi mazzo non so azorius soldati fai turno 1 2 1 turno 1 qualcosa te di secondo fai schuner e non possono attaccarti più gli aggro fino a turno 4 praticamente e se invece sei te l'aggressore questo è un 3 4 attaccante forte che attacca di terzo dopo un wedding dopo un qualsiasi cosa e in più ti toglie terre dalla cima ti pesca le carte ti gonfia la roba in campo è forte io ve lo dico non lasciate che questa carta vi scappi sotto l'occhi perché è forte tanto e si può giocare bene sia in aggro che in midrange e è forte sia contro aggro perché il culo è gigantesco sia contro control perché è una cosa che non muore da vratta e ti permette di attaccare subito dopo una vratta o una roba del genere dopo un sunfall ti permette di attaccare subito con la prima cosa che peschi e toglierti una terra dalla cima è forte 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 l'antico 2-8-8-8 fine non hai bisogno di farci le cose cioè te non hai veramente bisogno di fare quel descend 8 per attaccare o bloccare se ci arrivi bene stai facendo un mazzo ganso ma in realtà il fatto che l'antico sia 2-8-8-8 ci permette di fare un milione di combo gigantesche ma anche soltanto Obnixilis che entra 8 loyalty ult e peschi 7 è una roba fuori di testa 2-9-8-8 scomba in un botto di modi thrillseeker lo spari 10 danni e poi fai la fatina che dal cimitero diventa lui e col calderone di agata lo ritiri fai 20 danni in due turni puoi fare troppe combo questa carta attiva un botto di combo in tutti i formati quindi è da avere è da avere forse io ti dico anche è da avere sia cartacea che arena è una carta che si vedrà può essere e poi comunque ci sono dei mazzi se fai turno 2 questo turno 3 ti spari un glimpse di antincable e se il tuo mazzo è solo permanenti e glimpse di antincable probabilmente riesce anche ad attaccare subito con un 8-8 però comunque un po' di astri si devono allineare siamo alla toppissima seconda carta che secondo me è la migliore del set blood ladder of agla 4-2-4 volare se l'avversario perde punti vita durante il tuto non perde il doppio fine basta non è leggendaria è cumulativa guardatevi il mio video del buon nero per capire cosa riesce a fare questa roba perché è assurdo peraltro in pioneer questa in curva con Gary chiude praticamente assurda assurda puoi fare la curva aggressiva puoi fare la curva mid range puoi fare la curva che cazzo vuoi semplicemente finché questa cosa che ha un buon body perché se vai a contare alla fine è 4 mana no non è come Thorbrand non è 4 mana 4-4 è 4 mana 2-4 comunque comunque finché sta roba è in campo te fai il doppio dei danni all'avversario su qualsiasi cosa anche se stesso si può fare dei danni doppi e quello è il bello rispetto a Thorbrand è che se l'avversario fa qualcosa che gli fa danno da sé nel tuo turno ne perde comunque il doppio se il tuo avversario tappa una pain land nel tuo turno perde 2 punti vita questa cosa è bellissima è veramente tanto 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 pericoloso tanto che in qualche mazzo è più forte di Sheldred non è uno scherzo perché questo ha la differenza che c'è fondamentalmente tra questo e Sheldred è che Sheldred vuole rimanere in campo a lungo questo no Sheldred è la carta che vuoi se vuoi che la partita una volta scesa in campo Sheldred vada lunga Blood Leader of Aklazoz vuoi chiudere il turno stesso in cui scende se non massimo il turno dopo è OP e noi dovete avere 4 sempre in tasca anche sulla metro e carta che secondo me è comunque la migliore del set ma dinosauri non c'ha il nero non la gioca eh mammono nero Sheldred non ne ha bisogno non c'ha bisogno di essere in tutti i mazzi una carta per essere la più forte del set questa lo è punto e 2 mana risolvo qualsiasi cosa spacca una creatura o un planzwalker oppure spacca un permanente non creatura non terra che costa 1 o meno se sei sceso questo turno entrambi io dico sempre lo stesso esempio e lo stesso esempio varrà l'avversario fa turno 1 utopia sprawl io faccio turno 1 terra o qualcosa tipo terra tesoro strike it reach o quello che cazzo mi devo fare oppure fetch sarebbe meglio se io feccio turno 2 e faccio molten collapse io gli spacco a turno 2 sia utopia sprawl che chiora e questa cosa è gg automatico contro ogni mono verde questa per me può riportare a tier 1 assoluto rack dos in historic ne giocherò 4 richioccherò rack dos in historic per questo qualifier ne sono quasi certo non ha sfighe per il mazzo di ora 4 molten collapse quindi voglio dire ha soltanto guadagnato non ha perso niente questa per me è anni luce la carta migliore del set perché è troppo buona sempre ovunque no non ha senso splashare per questa se non hai il nero non hai il rosso ma se giochi grixis jand o qualsiasi altra cosa questa è la carta più forte che puoi avere in tutte le situazioni giocherò jand in standard con 4 di queste giocherò rack dos in historic o jand in historic con 4 di queste welcome to the league of jand questa era la mia top 10 più annesse menzioni speciali ovviamente è una top 47 però voi state vedendo questo video su youtube e quindi sappiate che oggi esce xalan oggi inizierò la live con i tre della pill alle 6 uscirà xalan e io proverò questi mazzi qua che ho appena detto prima di tutto jand e dinosauri e poi ci dedichiamo al rack dos historic per il qualifier vi ricordo ve l'ho già detto di mettere like al video commentarlo condividerlo con gli amizi iscrivervi al canale venire su twitch seguirmi anche su twitch venire su instagram seguirmi anche su instagram venire a casa mia vi chiamo i carabinieri per voi se cazzo che cazzo fate